questa non è questa non è collega la perchia collega la perchia oh oh aspetta uome che c'è cosi eh si ma trovami la pratica per favore eh si tu l'apri dai a preparare le panini apri un caffè a me serve la pratica eh si la vede dove sta chi è che ha messo le mani qua ma la vede dove sta sta qua la vede collega collega ma io faccio che cosa ti è successo te ne sapete stamattina mi sono fatto male in bagno mi sei fatto male in bagno si però per fortuna i sanitari stavano già sul posto si eeeh che cosa sceglo io beh ehi momenti per darvi la prova non lo so non lo so non lo so non lo so